carissimi siamo di nuovo insieme con alberto e con una nuova entry ma new entry dall'australia ci avete chiesto di parlare di questo paese affascinante e lontano e noi abbiamo trovato una persona che potrà guidarci nei meandri della situazione australiana e si tratta di alvise peggion che vedete a fianco a me alvise innanzitutto vorrei che tu ti presentassi e però prima di darti la parola vorrei ricordare a chi guarda questo video di iscriversi al canale lo ripetiamo spesso questo appello perché ci aiuta tantissimo nella diffusione di questi contenuti in quanto l'algoritmo di youtube favorisce privilegio a quelli che hanno più sottoscrittori più abbonati e soprattutto poi da maggiore visibilità a quei contenuti che hanno il maggior numero di like il maggior numero di commenti quello che si chiama in gergo engagement quindi se volete darci una mano cliccate sulla parte iscrizioni iscriviti e se ci date anche una mano a diffondere questi contenuti sui vostri profili social è un altro benvenuto supporto per questo canale benissimo allora alvise che cosa fai in australia e da quanto tempo sei lì buona mattina a voi allora in australia ci sono dal 2007 quindi sono tanti anni che vivo qui e adesso mi occupo di gestire un fondo con dei colleghi che investe in europa negli stati uniti nel regno unito soldi di clienti australiani in azioni di società quotate in borsa appunto in quei mercati lì mi occupo poi dell'analisi di di queste società e decidere più o meno di solito la decisione avviene in dodici o tre anni di quali aziende comprare insomma quindi un fondo azionario per dirla in sintesi primi dodici globale con focus globale nei maggiori mercati azionari bene sì nei primi dodici mesi facciamo dei report che mi portano a viaggiare molto in italia in germania e tornare in europa spesso a volte in giappone negli stati uniti eccetera metto insieme questi report che poi condivido con i colleghi e poi decidiamo insomma col passare il tempo quali società pensiamo che possano fare meglio nel tempo insomma benissimo allora alcuni dei nostri abbonati dei nostri affezionati fan ci hanno chiesto di parlare dell'australia a un certo punto insomma durante una delle nostre puntate abbiamo accennato all'australia e qualcuno ha detto ah ma perché non fare una puntata sull'australia vorremmo saperne di più non se ne parla tanto in italia se non in occasioni molto particolari o per motivi diciamo contingenti che cosa no così è diverso innanzitutto tra l'australia e l'europa che hai la possibilità di viaggiare di fare dei confronti e in generale come sta andando l'economia australiana allora di diverso forse la prima cosa è che è un paese che è molto che è insomma che è iniziato a svilupparsi recentemente insomma più o meno 200 anni di storia moderna e quindi la popolazione in generale la gente è molto più ha voglia di magari accettare le nuove tecnologie in memoria un po' più più veloce che magari in Europa a volte questo comporta fare degli errori nei primi anni in cui si cercano di implementare queste cose queste nuove tecnologie però insomma con il passare del tempo la popolazione è diventata molto molto abile nell'appunto accettare queste nuove tecnologie e quindi è un paese che è abbastanza moderno è abbastanza giovane e che appunto è molto volto a imparare cose nuove da altri paesi e lo si vede anche dalla struttura sociale che è molto multietnica non c'è un paese questo lo dico per chi magari non avesse cognizione o avesse scordato quello che magari ha preso a scuola è un paese è un'isola un grosso continente però sostanzialmente una grande isola più o meno delle dimensioni degli Stati Uniti Stati Uniti continentali quindi senza l'Alaska senza le Hawaii e con una popolazione però molto molto più ridotta gli Stati Uniti hanno 320 130 insomma più o meno e l'Australia ne ha poco più di 20 20 milioni di abitanti però in crescita molto veloce come vedremo magari perché ad esempio l'anno scorso nei 12 mesi fino a giugno 2023 sono stati cinsiti più di 500 mila nuovi ingressi nel paese e quindi la popolazione cresce abbastanza rapidamente proprio per l'influsso di immigrati se noi consideriamo l'Italia che è una popolazione tripla grosso modo trova difficile integrare 100 mila immigrati l'anno ci dà un po' il senso delle differenze tra noi e l'Australia Alvise dici un po' quali sono i settori più importanti dell'economia australiana i settori trainanti allora diciamo che il settore principale per l'economia australiana è il settore minerario che include anche il gas non solo materie prime come il ferro e il carbone e questo settore nel suo complesso genera più o meno il 15% del PIL questo è dovuto ultimamente di solito in anni in anni passati era più o meno il 10% ma per via della guerra in Ucraina e la pandemia e i prezzi di queste materie prime che l'Australia esporta è schizzato in alto e quindi anche l'apporto che questo settore dà all'economia è anche aumentato molto poi se pensiamo che non solo sia il 15% del PIL ma anche ha margini di profitto molto alti e quindi crea un sacco di ricchezza per il paese anche se c'è da dire che in generale l'Australia essendo un'economia molto aperta ha lasciato che molti paesi stranieri come gli Stati Uniti Giappone la Cina investissero in soldi in costruire l'infrastruttura mineraria e quindi una gran parte dei profitti che questa genera anche vanno all'estero perché questi paesi sono azionisti in molte delle società che appunto gestiscono il commercio di queste materie prime però il governo comunque riesce a trarre molta ricchezza perché riesce a tassare in modo diciamo non elevato ma comunque abbastanza importante queste attività e quindi questo settore è molto importante e negli ultimi anni il partner principale per l'esportazione di queste materie prime è sicuramente la Cina che assorbe almeno metà di questi prodotti minerari poi se passiamo ad altri settori importanti direi il settore dell'educazione è molto importante non solo perché è molto grande ma anche perché di solito è uno dei modi in cui l'Australia riesce ad attrarre molti studenti stranieri che poi una volta che hanno studiato qua per molti anni vogliono rimanere e quindi sono una partecipazione continua all'economia e aiutano molto la crescita come abbiamo visto l'anno scorso e magari ne parliamo dopo ma comunque tornando a questo punto settore dell'educazione la popolazione qui locale è di 26 milioni e ogni anno ci sono almeno 600 mila studenti stranieri che arrivano e questi hanno bisogno di alloggio vuoi dire scusa 6 milioni a Sydney vuoi dire siamo 26 milioni in Australia a Sydney sono scusa tranquillo allora stavo dicendo che appunto questo settore attrae tanti studenti stranieri che hanno bisogno di un alloggio di mangiare bere vestirsi eccetera e quindi comunque contribuiscono al successo dell'economia e poi anche rimanendo in futuro prima quando sono all'università aiutano l'economia nel senso che ci sono molti lavori di basso valore aggiunto che è molto difficile qui riuscire a trovare qualcuno che li voglia fare quindi i studenti anche aiutano in quello e poi quando rimangono e hanno l'educazione vengono integrati nell'economia locale aiutando il paese quindi l'educazione anche è un settore importante più o meno 5% del PIL se non mi sbaglio poi un altro settore molto importante qui in Australia è il settore finanziario di solito è un settore importante per tutte le economie occidentali aperte eccetera però qui particolarmente quello che è praticamente importante è il sistema bancario e specificatamente il sistema bancario in relazione all'erogazione dei mutui gli australiani sono molto vogliono comprare case è il loro asset preferito è il loro sogno eccetera eccetera quindi c'è un sistema che supporta tutto questo ecosistema dei mutui e di comprare case eccetera poi il sistema pensionistico anche diciamo non particolare però è un po' diverso da come funziona in altre economie occidentali nel senso che il tuo datore di lavoro ogni anno ti dà 10% in più del tuo stipendio perché tu lo metti in via in un fondo dedito al finanziamento della tua pensione una volta che la raggiungi quindi non ti promettono un certo stile di vita una certa somma di denaro una volta che raggiungi l'età pensionabile ti danno i soldi prima e poi tu devi in qualche modo tutto regolato eccetera comunque sei tu il responsabile a investirlo che così poi tu possa finanziarti insomma la tua pensione questo è un punto interessante scusami Alvise se ti interrompo perché insomma al contrario di quello che avviene in Italia i contributi pensionistici in Australia non vengono versati in un calderone chiamato INPS vengono versati su un conto titoli diciamo così per semplicità e ogni individuo ogni lavoratore ogni dipendente ogni anche i lavoratori autonomi devono tenere un fondo pensione come funziona per chi non è lavoratore dipendente non sono sicurissimo hanno l'obbligo di mettere dei soldi da parte oppure è una scelta che è affidata all'autonomia del singolo non sono sicurissimo ma penso proprio che sia dovuto cioè nel senso è quello che devono farlo tutti insomma del resto è ovvio perché se no se uno facciamo conto un avvocato o magari un idraulico non fossero tra virgolette costretti comunque se non si costituissero un fondo pensione arriverebbero 60 65 70 anni senza mezzi di sostentamento il che porrebbe un problema sociale per il governo quindi evidentemente anche i lavoratori autonomi sono indotti insomma sono obbligati a risparmiare ma per tornare alla differenza con il sistema italiano mentre l'Inps prende i contributi versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro e con quei soldi paga le pensioni quindi non mette da parte nulla questo lo dico perché c'è gente ed è tanta gente convinta in Italia di avere un tesoretto che quindi la pensione viene presa da un gruzzolo accumulato durante la vita lavorativa non è così i contributi che pagate in un nanosecondo vengono spesi per finanziare i vitalizi di chi è in pensione in Italia in Australia invece ciò non accade i soldi vengono effettivamente messi in uno strumento di risparmio e viene questo risparmio gestito da professionisti in modo che poi alla fine della vita lavorativa uno abbia un capitale da cui attingere per pagarsi gli anni pensione di pensione continua scusa se l'interruzione ma penso che fosse questo tra l'altro scusatemi aggiungo un punto tra l'altro questo degli effetti che non sono visibili sul debito pubblico perché noi in Italia consideriamo debito pubblico solo i titoli emessi dal governo ma non abbiamo idea di qual è il debito attuariale dell'Inps quindi se andiamo a paragonare il debito pubblico australiano con quello italiano stiamo confrontando mele con castagne perché il debito pubblico australiano il debito del governo non include giustamente il debito pensionistico quello italiano neanche include il debito pensionistico ma il debito pensionistico esiste solo che viene nascosto dai conti pubblici forse su questo dovremmo fare un bel giorno una puntata tra l'altro lo dico per chi non lo sapesse il bilancio pubblico australiano è in surplus cioè il governo è in stivo stivo ripeto attivo non in deficit come quello italiano dove stiamo sempre dove stanno chi siede nei palazzi del potere piangere miseria e a dire ah ma come facciamo ah ma come possiamo tagliare le spese ah ma come siamo disperati eccetera eccetera scusami Alberto ritorno vai vai pure no il il ed è anche mi sembra dire che il debito ma australiano è anche più pulito di quello americano dove c'è il social security ci sono i versamenti obbligatori al social security system che è una specie di imps invece in australia non c'è il social security giusto in realtà c'è una forma c'è una forma perché questo sistema pensionistico è iniziato mi sembra all'inizio degli anni 90 quindi comunque per quei cittadini che non sono riusciti ad accumulare abbastanza risparmi sotto la nuova riforma hanno comunque diritto a una pensione minima o a un livello di social security eccetera poi c'è anche un'altra cosa da dire nel senso che comunque poi tutti quei costi che i cittadini corrono per la sanità eccetera c'è molto che viene pagato dallo Stato ah quello è normale insomma c'è la sanità pubblica eccetera quindi usando la terminologia italiana c'è una prima gamba del sistema pensionistico che è un sistema a ripartizione che assicura una pensione minima poi c'è la seconda gamba che è quella dell'accumulo di risparmio anche in Italia c'è solo che questi fondi pensione vengono gestiti da cani da sindacalisti per lo più quindi nessuno si fida e non hanno mai preso piede per tutta una serie di motivi anche perché il trattamento fiscale è veramente farneticante eccetera eccetera torniamo un po' alla diciamo così alla descrizione del sistema australiano quindi questa economia è abbastanza solida si basa su materie prime sull'education istruzione poi l'Australia ha un sistema di infrastrutture molto avanzato tra l'altro c'è una società finanziaria che si chiama Mercury che è proprio specializzata a livello mondiale sul finanziamento di infrastrutture investe anche in Italia per chi non lo sapesse e dicevi il sistema finanziario è un'altra punta d'eccellenza dell'economia australiana sia per quello che riguarda la gestione del risparmio e quindi dei fondi pensione sia per il sistema bancario che è molto sviluppato insomma ha una punta d'eccellenza nei mutui ipotecari perché la popolazione australiana un po' come quella italiana ha una preferenza per l'acquisto di case e quindi c'è tutto un sistema che serve questa popolazione serve gli attirenti di proprietà immobiliari quindi sì il settore minerario direi educazione e il settore finanziario e poi scusate la luce sono qua in ufficio da sera si spegne così e però anche secondo me è anche importante dire nel senso che abbiamo parlato appunto di questa industria minerale che è importante però comunque l'Australia è un paese diciamo molto occidentale anche se lo guardiamo da un punto di vista dei consumi perché i consumi sono comunque più della metà del pil per il paese quindi sì esportiamo un sacco di batterie prime eccetera però diciamo è un'economia molto occidentale da quel punto di vista dei consumi adesso dal punto di vista della qualità della vita io sono stato alcune volte in Australia sono stato a Melbourne a Sydney sono città molto vivaci piene di giovani con un clima piuttosto piacevole poi se si va sulla costa ovest a Cairns dove poi comincia la grande barriera corallina e c'è una parte nord dell'Australia che ha un clima tropicale quindi anche dal punto di vista della qualità della vita l'Australia non è male diciamo però a livello di opportunità anche per chi non è un nativo australiano che cosa puoi dirci tu sei un esempio di integrazione di un italiano che ha studiato in Australia dico bene poi è rimasto perché il paese offriva delle opportunità ecco qual è il tuo giudizio la tua sensazione il paragone che puoi fare tra Australia e Italia diciamo che essendo un paese relativamente del nuovo e dove abbiamo avuto una crescita annuale comunque dell'economia sempre ogni anno aiuta che al fatto che comunque uno quando finisce gli studi magari non è semplicissimo però comunque con applicazione e voglia ci sono molte priorità di trovare lavoro ma è importante dire di trovarlo nell'ambito in cui tu sei preparato all'università se uno ha studiato economia è facile che trovi un lavoro in economia e ingegneria in ingegneria eccetera mi sembra almeno di aver parlato con amici del liceo ancora in Italia che si studiano qualcosa però poi una volta che hanno conseguito la laurea è stato molto difficile trovare lavoro nell'ambito in cui si sono specializzati diciamo qua in Australia essendo un'economia in crescita mi sembra che trovare lavoro in un ambito relativo a quello che hai studiato sia molto più semplice quando lo so non avendo vissuto in Italia per un bel po' però questa almeno è una mia impressione e dal punto di vista della qualità della vita cioè non lo so la burocrazia faccio per dire se ti serve di interagire con la pubblica amministrazione è un calvario oppure non lo so è tutto digitalizzato oppure se hai un problema entri in un ufficio pubblico non fai un salto nel medioevo e trovi qualche uno che effettivamente è in grado di risolvere il problema diciamo che c'è sempre gente anche qui che si lamenta riguardo la burocrazia avendo avuto esperienze qua insomma è quasi tutto digitalizzato sono ancora cose che potrebbero migliorare però comunque è abbastanza accettabile più che accettabile diciamo rispetto a altri paesi in cui ho visto qualità della vita in generale è che se uno ha voglia veramente di lavorare tutto il giorno lo può fare perché ci sono un sacco di cose da fare però diciamo la cultura australiana anche ha un buon equilibrio tra lavoro e insomma tempo libero tempo con la famiglia un po' aiuta il fatto che come dicevi tu sì è un paese di 20 milioni e passa però la maggior parte della popolazione abita in in grandi città Sydney Melbourne Brisbane che sono sulla costa quindi con insomma amenità e natura molto piacendole e quindi quindi questo appunto c'è questo equilibrio che si tra tra lavoro e appunto il tempo libero e appunto la natura insomma qua ti dà anche la possibilità di ti mette anche la voglia di di fare qualcosa al di fuori del lavoro però per gente magari un po' più giovane o che magari è venuta ad altri paesi dove magari ha avuto difficoltà eccetera lavorando qua ci sono le possibilità di lavorare anche molto in uno stile tipo simile agli Stati Uniti diciamo che la popolazione in generale ha un buon equilibrio però ci sono tante persone qua che veramente vogliono lavorare molto sodo e con mentalità molto americana diciamo quindi c'è c'è entrambe per la gente che che volesse venire o cercare un lavoro qui non è facile però comunque con impegno si può Alberto questo diciamo così com'è la possibilità di ottenere un visto di lavoro allora essendo un'economia che sta crescendo anche l'occupazione a livelli record quindi anche il governo ha rilassato un po' quelli le richieste per i visti o quei canoni che cercava in passato molto specifici sugli skills ci sono talmente tanti lavori che comunque dove c'è non c'è abbastanza offerta qui e quindi incentivano molto ultimamente la gente a venire quindi secondo me è diventato molto più semplice che in passato ottenere un visto soprattutto negli ultimi due o tre anni con tutti i problemi di supply chains che ci sono stati e infatti l'abbiamo visto l'anno scorso come diceva Fabio prima abbiamo accolto diciamo 500.000 persone nuovi magari immigrati per dire ma tra l'altro sempre per parlare di cifre in un mese ci sono l'ultimo mese l'ultimo dato ci sono stati 61.000 nuovi occupati in Italia che ha una popolazione molto più ampia di quella australiana quando aggiungiamo 200.000 persone alla forza lavoro no alla forza lavoro diciamo agli occupati ecco sappiamo le bottiglie di champagne questo sempre per dare un ordine di grandezza e un metro di paragone la Cina Alberto tu sei un po' quello che ha seguito le vicissitudini nei rapporti tra Australia e Cina che sono stati in passato abbastanza burrascosi adesso sembra che si stiano un po' attenuando le tensioni però l'Australia dipende in buona parte insomma in misura sostanziale dalla domanda di materie prime e di altro per esempio vino dalla dalla Cina a un certo punto soprattutto durante la pandemia l'Australia è stato forse uno dei pochissimi paesi a criticare la Cina a dire bisogna capire da dove viene questo virus insomma ha avuto un atteggiamento piuttosto conflittuale e negli anni passati anche c'erano state delle dispute mettiamola così per cui i cinesi insomma hanno adottato delle ritorzioni sulle importazioni di vino adesso come siamo messi qual è lo stato delle ritorzioni io faccio solo un preambo poi farei rispondere ad Alvise la la Cina è stato il primo paese occidentale a subire e a denunciare apertamente l'Australia non la Cina è stato il primo paese diciamo del blocco occidentale a a scoprire e denunciare i tentativi cinesi di infiltrazione politica questo è un fatto e su questo vorrei che Alvise commentasse con i cinesi che facevano leva su un 8% di popolazione cinesi in Australia per condizionare i risultati politici con mezzi di informazione con corruzione con membri dell'esercito cinese dei servizi cinesi che si facevano eleggere in Parlamento quindi questa pratica è poi stata successivamente scoperta dalla Nuova Zelanda è stata scoperta dal Canada è sotto osservazione negli Stati Uniti però questa è stata la prima cosa poi l'Australia è stata soggetta a grandi ritorzioni i cinesi quando ha chiesto alla Cina di fare un'analisi dipendente sull'origine del Covid e lì la Cina ha bloccato le esportazioni di vino ha bloccato le esportazioni di ferro è stato un disastro però l'Australia ha tenuto duro il rapporto è duro sia l'Australia ha aderito al Quad che l'alleanza sino-giapponese americana e australiana per contenere la Cina l'Australia ha aderito scogliami Alberto perché sennò non si capisce indo-giapponese tu hai detto sino-giapponese indo-giapponese l'Australia ha aderito all'Ocus che è l'alleanza americana australiana UK inglese per costruire i sommergibili nucleari di cui l'Australia si dotterà insomma l'Australia in prima in prima linea nel contenimento cinese Alvise a te rifinire su questi discorsi che ho fatto sì sì c'è tantissimo da parlare hai già colto molte delle cose che sono successe diciamo che il trucco della discussione qui è che l'Australia è sempre stato uno dei maggiori alleati degli Stati Uniti non facendo parte alla Nato è sempre stata vicino al Regno Unito al Canada alla Nuova Zelanda e tutti gli aliati storici degli Stati Uniti però al stesso momento la Cina è anche la Cina è il partner commerciale più importante per l'Australia e quindi ogni volta che l'Australia magari apertamente si schiera in ambiti di politica estera con gli Stati Uniti la Cina si inventa pretesti per danneggiare l'economia australiana oppure comunque lancia segnali un po' di spida in passato l'Australia ha sempre adottato una politica un po' di ambiguità dove sosteneva ufficialmente gli Stati Uniti per l'Unito ci ha messo un problema a commerciare liberamente o non liberamente per commerciare in generale con con la Cina e adesso questa politica di ambiguità un po' meno sostenibile per tutti degli eventi che sono successi e appunto come certi di questi Alberto ha citato se dobbiamo magari ripercorrere un percorso magari negli anni magari un riassunto di cosa è successo l'apice della cooperazione tra la Cina e l'Australia è probabilmente stato raggiunto nel 2014 quando c'era un governo di Tony Albert che è uno del partito conservatore che ha con con aiuto ovviamente di sua ministra eccetera ma ha siglato un nuovo trattato commerciale con la Cina e questo è andato bene per un po' però poi come Alberto ha detto il governo successivo di Malcolm Turnbull ha identificato che appunto la Cina cercava di influenzare la politica interna qui e quindi non solo ha impedito a Huawei che è una società di telecomunicazioni cinese di partecipare alla costruzione del network 5G ma anche ha fatto passare delle leggi appunto per cercare di arginare queste presunte un po' approvate non si è mai capito benissimo però comunque queste queste diciamo questi modi non chiari queste interenze chiamiamole così cinese nella politica e nella nei processi decisionali delle istituzioni australiane tipo regalavano non so vacanze imposti esotici a politici cose così solite cose losche e così e lì appunto la Cina ha iniziato a insomma un po' a non essere contentissima con 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 l'Australia poi di più anche quel governo lì si è anche detto un po' un po' eclatante in modo un po' eclatante suggeriva che avrebbe dato dei visti a persone di Hong Kong che erano sotto diciamo le grimpie dei cinesi quando sono arrivati lì e quando praticamente ha fatto una volta faccia un paese due sistemi quella politica lì che aveva cercato di convincerci che avrebbero adottato una volta presa Hong Kong e poi il governo successivo di Morrison che è un altro conservatore non ha continuato appunto a creare appunto a dare questi messaggi non benevoli verso la Cina come Alberto ha detto è stato uno dei primi a suggerire di cercare di fare questa di investigare sull'origine del Covid ed è qui che proprio il governo cinese si è proprio diciamo arrabbiato nella virgoletta nel senso che subito dopo hanno iniziato a mettere dei dazi su prodotti su export australiani l'hanno fatto sull'orzo su prodotti agricoli tipo anche il manzo carne aragoste e anche sul carbone però una cosa che non hanno fatto e che magari ne parliamo tra un minuto è non hanno messo dazi sul feng perché è molto importante per la Cina ed è stata uno dei motivi appunto perché l'economia è tenuto così bene ultimamente qua poi ritornando comunque all'ordine cronologico poi il governo nuovo che non è neanche dei conservatori ma dei lavoristi mi sembra che si dica in italiano ha siglato un accordo con gli Stati Uniti per comprare cinque sottomarini a propulsione nucleare non con armi nucleari ma con propulsione nucleare che è quel sotto quel trattato di cui ha parlato quindi insomma la situazione è diventata abbastanza diciamo non piacevole con i nostri commerciali ultimamente sembra che cioè nel senso non sembra ma il governo cinese è venuto fuori un po' di mesi fa dicendo che adesso le relazioni sono che sono migliorando stanno migliorando e l'ha fatto tramite il suo apparato dei media e quindi ha dato un segnale forte a tutte le istituzioni cinesi che da ora in poi va bene di nuovo commerciare insomma o comunque avere rapporti in Australia ovviamente il nuovo governo non ha fatto più di tanto per discreditare questa notizia l'hanno accettata e i cinesi il governo cinese insomma ha iniziato a rimuovere un po' di questi dazi però comunque diciamo c'è adesso un clima diciamo bipartisan nel governo dove nessuno si fida più di tanto e più della Cina infatti anche il ministro degli esteri che si chiama Penny Wong al momento qui ha dichiarato l'altro giorno che la Cina è cambiata e quindi la nostra relazione con loro è cambiata e probabilmente non ritorneremo più a una situazione come 5-6 anni fa ma è più una situazione di stabilizzazione e qui è qui dove siamo rimasti adesso poi tornando a quel discorso che dicevo prima ma i dazi la Cina non li ha imposti sull'industria del ferro il ferro ovviamente lo usano per fare l'acciaio e l'Australia e la Cina hanno due economie molto complementari su questa materia prima dove la Cina è il più grande importatore di ferro per fare l'acciaio mentre l'Australia è il più grande esportatore ed è molto difficile non comprare dall'Australia perché il Brasile e altri posti in Sud America non sono molto affidabili in termini di supplies e la Cina è investita molto in Africa ma poi ma l'infrastruttura non è ancora pronta per importare volumi grossi e quindi se andate a vedere il prezzo del ferro in questi anni è salito molto ed è comunque rimane anche al giugno d'oggi a livelli abbastanza magari cambierà però il fatto di riuscire ad esportare per questi anni verso la Cina grandi volumi di ferro ha aiutato l'economia insieme a quei flussi migratori di cui parlavamo prima a tenere adesso si vedrà cosa sarà il 2014 però comunque non un punto di forza ma una situazione abbastanza decente il rischio di cui si parla di più adesso è il fatto del mercato immobiliare per quello di più perché tanti chiamano la bolla perché i prezzi sono continuati ad aumentare anche adesso che la banca centrale ha alzato i tassi mi sembra che adesso si è al 4.5% i prezzi comunque sono rimasti stabili ma si pensa e probabilmente è anche vero è dato da un fatto molto peculiare all'Australia dove i mutui sono generalmente quasi sempre il 99% a tasso variabile a volte ed è stato così durante la pandemia chi contrae un mutuo può scegliere di fissarlo al massimo per 2-3 anni e così molti durante la pandemia hanno fatto perché i tassi erano scesi tantissimi ma adesso che stiamo a stiamo 3-2-3-4 anni tutti questi mutui stanno ritornando a un tasso variabile la maggior parte diciamo l'astraliano medio che ha un mutuo dedica più o meno almeno un terzo se non di più dello stipendio a ripagare questo mutuo e adesso molti sono ancora insulati un po' da questo fatto che i tassi avevano lucati all'1% però adesso il tasso se poi è un mutuo adesso è 6% quindi c'è un gran dibattito su cosa succederà quando appunto questa gente dovrà di colpo adoperare molto di più di un terzo del loro stipendio per ripagare questo mutuo e dicendo e come dicevo prima dato che metà dell'economia comunque è consumo potrebbe rallentare significativamente poi c'è anche da dire che il governo potrebbe iniziare a abbassare o comunque potrebbe spingere per riabbassare i tassi e abbassando i tassi anche il dollaro australiano dovrebbe scendere un po' e l'inlancio commerciale un po' migliorare e quindi magari probabilmente ci sarà una situazione in cui la bolla non scoprirà però comunque rimane il fatto che questo tipo di politica che continua a favorire questi investimenti immobiliari a lungo termine magari non è ottima perché comunque continua a incentivare investimento in beni non produttivi questa faccenda è abbastanza strana perché in un paese così vasto e con una popolazione contenuta rispetto all'estensione del territorio uno immaginerebbe che la proprietà immobiliare insomma il prezzo dei terreni non sia così alto cioè a livelli record su scala planetaria invece perché le case di appartamenti sono così costosi in Australia che cosa è che tiene il prezzo chiaramente c'è questo flusso di immigrazione insomma a mezzo milione l'anno anche se fossero come si prevede negli anni futuri i nuovi immigrati fossero solo 250 300 mila insomma bisogna fare in modo che trovino un tetto sotto il quale dormire e quindi è un problema solo di domanda che non trova un'offerta adeguata o c'è qualcosa di più non è che c'è lo zampino dei cinesi che compro in Australia so che quello è sempre stato un tema caldo sì è sempre stato un tema caldo però diciamo è un po' un'analisi non verità esagerata il ruolo dei cinesi no? esagerato allora da 2000 i prezzi delle case sono cresciuti all'anno il 5% in media dall'anno 2000 però scusami se ti interrompo perché io quando ho lavorato un'unica volta in Australia ed era perché il fondo dell'Oman aveva investito in una società che gestiva comunità di pensionati retirement homes e questa questa società era andata in sofferenza perché nella crisi 2008 2009 i prezzi delle case insomma degli immobili in Australia era crollato e quindi per tutta una serie di conseguenze il fenomeno poi era investito anche di chi gestiva queste comunità per anziani e quindi non è stato sempre un processo come dire lineare no? non è stato un aumento costante ci sono stati degli alti e bassi no? e come mai insomma le politiche governative insomma la la richiesta no? della della gente per misure che potessero essere più favorevoli alla costruzione di nuove case non ha trovato uno sbocco nella nella realtà per per le case adibite per gli anziani quelle case di piccoli se c'è stato un problema politico o di qualche praticamente no ma lascia perdere lascia quelle era un problema poi magari una volta possiamo descriverlo ma non non mi metterei a puntualizzare su quel su quel settore l'ho citato solo per dire che negli anni della grande crisi finanziaria anche l'Australia e il settore immobiliare australiano ha subito delle conseguenze abbastanza pesanti quindi evidentemente in quel frangente qualcosa si è rotto e il costante aumento dei prezzi delle abitazioni si è invertito poi come mai insomma non si costruiscono abbastanza case da calmerare di prezzi allora la domanda è fortissima nel senso che appunto negli ultimi vent'anni l'economia è andata molto bene appunto esportando a Cina altri paesi emergenti queste materie prime ma anche l'economia locale è andata bene poi immigrazione costante come appena detto e poi un altro fattore importante sono agevolazioni fiscali che il governo dà a gente che investe nel mercato immobiliare adesso sia l'ora di iniziare a andare nello specifico in queste agevolazioni fiscali però sono molto importanti perché invogliano molto la gente appunto a investire nel mattone poi una volta date queste concessioni sono molto difficili da togliere queste sono date 20 25 anni fa e adesso è molto difficile appunto rimuoverle quindi questi sono un grande aspetto in più dal punto di vista dell'offerta lì è anche c'è un gran problema nel senso che come non so se l'avevamo detto prima ma comunque in Australia ci sono 26 milioni di persone delle quali metà vive in tre città e queste tre città sono sul mare Sinni ha le montagne dietro quindi non è che puoi andare tanto indietro a costruire e tutti vogliono venire appunto a vivere in queste tre quattro città più importanti dell'Australia dove ci sono i migliori lavori sono i salari più alti diciamo eventi internazionali qualità della vita insomma opportunità eccetera eccetera quindi quindi c'è quindi c'è proprio una questione di limitata offerta di suolo per soddisfare questa domanda in forte crescita in più cosa succede anche c'è c'è che c'è una versione di coloro che hanno già le loro case proprietà eccetera di lasciare costruire in verticale cioè ad alta densità in all'oro quindi non solo non c'è tanto spazio ma anche non può andare in verticale quindi quindi questo è un problema per l'offerta e un po' anche in più i costi per costruire sono elevatissimi perché tanti dei prodotti vengono importati per costruire non c'è tanta manodopera di qualità e quindi e poi appunto per la pandemia questo è venuto ancora meno i prezzi per appunto tutti i problemi dell'indotto delle costruzioni eccetera è peggiorato e in più è molto difficile in questo contesto per aziende di costruzione riuscire a guadagnare dei soldi qua in Australia costruendo case quindi c'è un fallimento dietro l'altro che si legge sui giornali di appunto di aziende di costruzioni che non riescono a fare margine per appunto questo ma questa è una cosa è abbastanza singolare no? perché tu hai un mercato con una domanda molto sostenuta e società immobiliari insomma palazzinari diremmo a Roma che invece di fare profitti finiscono in banca rotta grazie è difficile avere i lasci per farli e se li fai poi ti costruiscono di solito è difficile trovare appunto gente che li costruisca e quando li trovi magari non sono bravi però li devi pagare un sacco senti Alvise va bene mi sembra che abbiamo un po' offerto una panoramica abbastanza completa della tu sei contento in Australia o pensi di tornare in Italia? sono contento qui ma ovviamente la mia famiglia essendo lì in Italia vorrei tornare comunque almeno per due tre mesi all'anno che con il mio lavoro riesco più o meno a fare adesso quindi non ho nessuna ambizione di tornare a breve però comunque con tutti i suoi problemi rimane un paese che mi piace però per il lavoro la carriera che sto facendo la mia società è qui in Australia quindi sono adesso un po' più legato al paese beh sai poi dopo un po' che vivi in un paese e com'è la vita in Australia è vero che alle 5 vanno tutti a bere e che si fa si fa un sacco di sport beh sport sì quello sì perché è molto più facile nel senso che essendo il clima mite e dico estate tutto l'anno però quasi ci manca perché comunque anche l'inverno qui a Sirnino fa meno di 12 gradi 14 gradi e quindi all'attività all'aperto sì per il fatto del bere sta cambiando però non mi meraviglio che all'estero pensino così però sta cambiando un po' c'è molto più diciamo awareness sul sull'impatto dell'alcol eccetera però sì l'Australia è famosa per lo stile di vita salutista quindi l'immagine degli australiani che si sbronzano al pub forse è un po' troppo sbrigativa ma era era così a me non mi ricordo alle 5 tutti lasciano il lavoro sì di solito il venerdì come sta sentendo sì e vanno a bere e vanno a bere venerdì sera dopo il lavoro qua a volte anche in settimana ormai non succede tantissimo soprattutto perché dopo la pandemia sì noi torniamo in ufficio due o tre volte a settimana perché comunque i clienti devo vedere ogni tanto ma la maggior parte quelli che possono stanno a casa quindi la città in realtà è anche molto deserta diciamo durante la settimana la gente non è ancora tornata diciamo a lavorare giorno dopo giorno vengono una volta settimana o due penso di essere l'unico l'unica persona qui in questo piano di questo palazzone alle 8 di sera però comunque l'anfralia rimane una bella prospettiva per i giovani italiani possono venire a studiare possono prendere il visto lavorare lì è ancora uno dei pochi paesi aperti direi di sì ovviamente non è facilissimo perché comunque c'è almeno un livello burocratico dove comunque fanno uno screening di chi può venire o no comunque è molto più aperto di quello che era quando io sono venuto qua quando ero venuto qua e volevano appunto infermieri ingegneri informati e se non eri quello era molto difficile adesso è un po' cambiato nel senso che c'è bisogno di gente quindi un po' meno i ragazzi che vedo che vengono dall'Italia qui la maggior parte lavorano nel mondo dei ristoranti della ristorazione del cibo e sono molto bravi tanti fanno buona carriera iniziano lavando i piatti da camerieri eccetera ma poi aprono i loro ristoranti e insomma ci sanno fare ho tanti amici da tutta Italia che hanno aperto i ristoranti e ovviamente il ristorante non ha un business facile però comunque la maggior parte di loro sta andando bene ottimo grazie mi sembra che possiamo concludere su questa nota la puntata ti ringraziamo sei stato molto gentile anche data la differenza di orario per cui ti abbiamo fatto rimanere in ufficio più a lungo quando parlo in italiano perché sono tanti anni che non lo uso quotidianamente no vabbè sicuramente sei stato sei stato assolutamente commendevole per per il tuo italiano che non usi così spesso e rinnovo l'invito a iscriversi al canale insomma a darci una mano sull'engagement e mandiamo un grande abbraccio ad Alvise sperando di averlo presto di nuovo con noi magari per se i nostri ascoltatori i nostri spettatori vogliono approfondire qualche aspetto abuseremo di nuovo della tua gentilezza e per il momento ti salutiamo e salutiamo tutti voi che ci avete seguito finora ciao ciao grazie ciao ciao ciao